E' bello quando si trovano i scopertori così, quando diciamo, dice, ma davvero, ma anche io ho detto, ma veramente, abbastanza la radio, e vanno un po' in terte. C'è sempre quell'esclamazione un po' colorita, anche a Franco, ma davvero. Mario! Ciao Mario, ciao Andrea, buongiorno. Come stai Mario, sei felice? E' un po' emozionato, non puoi immaginare, sei emozionato. Quante volte ci hai provato Mario a giocare con noi? Guarda, diciamo che ho cominciato tanto, cioè si chiede che qualche anno fa avevo provato a fare la stessa cosa con il concorso Buon Madonna con New York, e purtroppo non ce l'ho riuscito, stavolta dico i Warplay, non mi voglio perdere perché è un gruppo che, cioè, non mi adoro più praticamente, ma c'è prova, c'è prova, c'è prova, c'è prova, ci ho provato in tutte le maniere, ma forse io l'ho riuscito. Sì, sei riuscito Mario, senti, nel caso con chi ci andrai? Ciao a una mia amica. Ah, bravo! Mettiamola alla prova, vediamo un po' se sei veramente preparato, se ci dici il nome del vincitore, paravincitrice della concorrenta o concorrenta precedente. Vai! Mario! Mario! Mario, ti abbiamo preso! Eccoti Mario! Sì, sì, sì! Ti abbiamo chiesto il nome del vincitore e vincitrice della precedente match. Sì, non ascolta più scimmia! Sì, sì!